E ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard Siamo qua in questo nuovo video perchè finalmente Supercard ci ha spoilerato Ci ha annunciato tutti quanti gli eventi da qui fino al 31 di marzo Dopotichè arriverà finalmente anche il nuovo tier Probabilmente vresti le mine 35 se così si chiamerà signori E siamo qua ragazzuoli se vedete siamo anche di istruzione più Perchè durante l'ultima lega abbiamo ottenuto anche il terzo slot dell'impeto E abbiamo ottenuto anche il 100% delle stats alla nostra amatissima page E quindi a questo punto abbiamo raggiunto anche di istruzione più per questa settimana Dovremmo mettercela tutta in questa Royal Rambo per tenerci almeno questa posizione Anche perchè io vi giuro ragazzi vi giuro tantissimo Adesso vado a vedere anche direttamente sull'applicazione YouTube Studio Dove ho tutto presente il calendario dei miei video E vado a vedere quando è stato pubblicato il video di quando sono arrivato al deck di istruzione Dunque vediamo Over the limit Over the limit Back to neon Eccolo qua finalmente di istruzione Questo video Questo video è stato pubblicato il 4 di febbraio ragazzuoli Oggi che sto registrando è il 6 di febbraio È praticamente passato un mese preciso E in questo mese neanche una superstar Distruzione dalla draft board Ma bene E non è la nostra strada verso le slemmine Sicuramente sarà molto semplice Di questo passo ragazzuoli ci arriveremo tranquillamente Ad ogni vado andiamo a vedere se possiamo sculare qualcosa Tra l'altro ragazzi parleremo anche di questo regalo Andiamo a prenderlo anche insieme Andiamo Prendeci tanto il regalo questo qui di gratuito Che magari chissà una piccola sculatina a sto gioco Quando mai E vabbè ragazzuoli bando alle ciance E questo qua in sovrimpressione è il calendario di Supercard Di tutto il mese di marzo È presente comunque anche sulla pagina ufficiale di Supercard E comunque l'ho già pubblicato anche su Instagram E qualora mi seguiste pure là La Road to Wrestling Mania signori Infatti vediamo il mese di marzo Dal primo fino al 28 Tutti quanti gli eventi che avremo in questo mese Partiamo appunto con il primo di marzo Con l'evento Spring Fever Dobbiamo cominciato a prendere i semini Prendere se qualcuno ha la fortuna di trovarli Insomma Di trovare i dati off board Ed è buon per lui Io sono uscito comunque a concludere Almeno una fusione Grazie comunque anche Ai bonus giornalieri Perché fino a ieri c'erano appunto almeno due Due per ogni pacchetto E comunque un pacchetto Fare primavera Me lo sono portato a casa Dopo ve lo faccio vedere Perché l'ho registrato Mentre lo spacchettavo Signori tanta tanta robetta è stato Qui siamo di nuovo a tre Dovremmo completare un'altra volta questo Prendo un altro germoglio E fino a che non avremo otto Non potremo riavviare Quest'altra Questa altra camera di fusione Ovviamente ragazzoli Questo Febri Primavera 2018 È un pacchetto Credo abbastanza inutile Perché ovviamente Se uno magari alla fine Non riesce A raggiungere tutti quanti Gli slot necessari Per avviare questa camera di fusione A quel punto Si dovrà contentare Di quella 2018 Qualora sia di un livello Potenzialmente basso Altrimenti non avrebbe senso Comunque Tra l'altro manca anche Due giorni e qualche ora Per la camera di fusione Di istruzione ragazzi Qui abbiamo già preso Diverse carte Quindi è possibile fare Una pro Prossimamente Signori Comunque andiamo a vedere Il calendario In dettaglio 6 di marzo Quindi oggi Abbiamo il primo regalo Il primo dei quattro regali Di questo mese Uno per ogni settimana Eccolo qua Regalo 1 Atteggiamento Mr. Perfect Più un retrocarta Di Mr. Perfect Allora signori Questa cosa è già successa Anche l'anno scorso Durante Non mi ricordo quando Ma credo più o meno Di questi periodi Forse No forse d'estate Quando Arrivo a Colosso Se non sbaglio Comunque beh In sostanza è la stessa cosa Il gioco ci regala Diverse cose Prima mi ricordo Erano sette giorni Di regali Qui invece sono quattro regali Una settimana E praticamente Potrebbe essere benissimo In questo caso Abbiamo un atteggiamento Con un retro di carta Potrebbe essere benissimo Crediti Potrebbero essere Battleground point Competitive point Contratti Magari perché no Anche una carta Del proprio livello Ovviamente Lo annunceranno Cosa la pagina ufficiale Sicuramente Però vabbè A questo punto dunque Prendiamoci questo nostro Primo regalo Atteggiamento Di Mr. Perfect Più retro della carta It's not easy Being me Perfetto Sotto ogni aspetto Signori E questo è il nostro Nuovo atteggiamento Che è Onestamente Le atteggiamenti La trovo una cosa Inutile In questo gioco Però vabbè Cosa mia Tanto perché no Andiamoci a fare comunque Un po' di Royal Rumble Perché comunque Se andiamo un po' in draft board Magari riusciamo a trovare Qualche Qualche seme Non è male Comunque vabbè Prossimo evento Che comincerà appunto Domani ma Quest'oggi Quando c'era questo video Sarà già presente Il nuovo Last Man Standing Con il ritorno di Roman Reigns Prima era Colosso Stavolta è Distruzione Di nuovo la sua Seconda Last Man Standing E signori Potrebbe essere Un'ottima chance Perché Che Le Last Man Standing A parte quella di Triple H E Braun Strowman Wrestling Mina 34 Poi le ho fatte tutte E Onestamente Come vedete anche qua Abbiamo The Rock E anche Johnny Gargano Che sono veramente Due carte OP Non di livello massimo Però Mi hanno aiutato Tantissimo A arrivare a distruzione E qualora Riuscissi A prendere anche Questo Roman Più anche se vedete Al 28 C'è anche un'altra Last Man Standing Beh probabilmente Avreste le mie 35 Ci potremmo essere Molto più easy Comunque Andiamo per gradi Per prossima settimana Ovvero Il 10 Di marzo Avremo una Flash Ring Domination Quindi un'ova Superstar Che in due giorni E mezzo In 60 ore Proveremo A prendere Signori Ring Domination Che è veramente Easy Ring Domination Flash Event Io l'amo È veramente Un evento Fantastico Potenzialmente In un giorno Già ti prendi Direttamente Tutte e tre Le carte In due giorni Ti fa direttamente Anche la modalità Eroica Quindi ragazzi Tanta tanta robetta Poi Dal Dall'11 Di marzo Fino Al Al 25 Per le squadre Per i team In battleground Avranno appunto Avranno una ricompensa Di battleground Doppia Quindi ragazzi È chiaro Cristallino Che arriveranno I pacchetti Quelli di istruzione Quando arriverà Anche il nuovo tier Quindi Ti aiuta appunto A progredire il gioco A spacchettare I pacchetti Più forti Anche perché Ricordo Ci sono pacchetti Il 60 mila Dove trovi appunto Una coppia Di carte Neon Costicchiano E quindi Se uno Dovesse andare A prendere Anche 4 5 mila Battleground Point A botta Insomma Non è male Il 13 di marzo Ci sarà appunto Il secondo regalo Che potrebbe essere Crediti Battleground Point Competitive Point Una carta Regalo Potrebbe essere Qualsiasi cosa Prossima settimana Ancora Il 14 di marzo Ci sarà una Flash Event Road to Glory Con punti doppi Punti raddoppiati Quindi ogni singola Vittoria sarà Di 10 punti Raddoppiata sarà 20 punti I punti Credo che siano sempre Gli stessi Fino a 275 Quelli della carta Istruzione E carta evento Però Le vincite Possono essere Raddoppiati Fino a 20 punti Quindi Non so se Abbasseranno Comunque la storia Dei punti Necessari per raggiungere Qualsiasi carta Però Potenzialmente È così Come è sempre stato E stessa cosa Ci sarà appunto Anche un'altra Flash Event Ring Domination Di nuovo Signori Quindi tanto Questo mese Ragazzi Mamma mia Poi Però se c'è da considerare Anche gli eventi Intimi Quindi Sarà un mese Completamente al cardiopalma Veramente Poi ovviamente Il 20 abbiamo Anche un altro Il terzo regalo Quindi Aspettiamoci qualche altro Probabilmente andranno a crescere Perché cominciamo Dal regalo Quale Inutile Con una carta Atteggiamento E un retrocarta Che potenzialmente Non serve a niente A fine del gioco Fino appunto Probabilmente Il 27 di marzo Ci sarà appunto Ultimo regalo Potrebbe essere benissimo La carta del proprio livello Comunque Il 21 ci sarà appunto Anche la seconda Rotten Glory Flash Event E dal 25 marzo Fino a 1 aprile Ci saranno anche Le ricompense doppie In King of the Ring Quindi penso che Voglia dire anche Ricompense doppie Anche per quanto riguarda Le pull Dalla draft board Quindi quando vai a Arrivare in seconda Qualificazione Ti danno 10 carte Saranno 20 Nella prossima Quando arriverai a Rov o Smackdown Saranno 15 No Saranno 30 Quindi ragazzi Spacchetteremo Come se non ci fosse un domani E spero almeno Dopo un mese e mezzo Di riuscire a trovare Appena Almeno un'altra Carta di istruzione Ragazzi Vi giuro Non l'ho più trovata Ho trovato un miglioramento E un E un manager Basta Nient'altro ragazzi Proprio Zero 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 Cartinino Non le sto trovando Cartinino le sto trovando Sto trovando tutti quanti Luciador Ho trovato 48 Linz Dorado Vabbè Dettagli comunque Comunque vabbè Poi il 27 di marzo Ci sarà l'ultimo regalo E il 28 di marzo Ultimo Evento Prima dell'avvento Il nuovo tier Ultima Last Man Standing Che ancora non sappiamo Chi sia Non è ancora stata spoilerata Come anche le altre due Superstar Ditalia 20 Quindi ragazzi Chissà che cosa Andremo a Prenderci probabilmente Perché Last Man Standing Ragazzi Io consiglio di giocarla tutti Ho detto anche in passato E potenzialmente Anche a posizione 9000 Ci arriviamo Anche senza shoppare Quindi È un evento Che va giocato Se volete Se volete Nerdare Abbastanza Da Poter salire di livello In modo Quasi free to play Insomma ecco Attenzione Attenzione Siamo di Royal Rumble Abbiamo vinto La Royal E andiamo a vedere Intanto Se riusciamo a prendere Qualche seme Anzi Spero qualche stelo Più che altro E magari No Ha crashato Madonna ragazzi Questo è Sì ragazzi Questo è proprio il gioco Che non mi vuole Fa pullare Ci riproviamo Signori Adesso andremo a fare Una lotta Wild Anzi forse Usero Qualche contratto Da money in the bank Questo che faremo Prima Meno male Almeno Non è crashato Prima che finisse La Royal Rumble Almeno Quei punti L'ho presi Grazie Il gioco Comunque Sempre bellissimo Certe volte Comunque Vabbè Vediamo Intanto Comunque Qui manca Ancora Una settimana Ci saranno Probabilmente Le prossime Ricompenze 8 giorni Oggi Il 6 Potrebbe Combaciare Comunque Qualche Altro Tipo Di Ricompensa Potrebbe Potrebbe Comunque Andiamo Un draft board Vediamo Se riusciamo A prenderci Almeno Qualche Stelle Più che Altro Perché Mi preferisco Siamo Di istruzione Più Ragazzi Da Almeno Una Carta Istruzione Benissimo Bellissimo Bellissimo Così Partiamo Bene Partiamo Alla Grande Gioco Vedi Vedi Quando Mi senti Implorare Oh Attenzione Abbiamo Tra lato Una Una Bestia Una Titano Comunque Vabbè Anche Il ritorno Di Kevin Owen Potrebbe Starci Come Cartless Mestanding Chissà 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 Vabbè C'è stato Nella Team Indomination Adesso Quindi Non lo So No Non Lo So Per Sermi 3 Resistance Andiamo Avanti Ultima Carta Niente Ci sono Portati A casa Un Seme Un Seme Soltanto Vabbè Comunque Ragazzi Per finire Questo video In bellezza Questa è La camera Di fusione Che ho Spacchettato Questa Mattina Della Spring Indering No Spring Fever Spring Indering L'anno Scorso Questa Ragazzi È la Carta Che Abbiamo Preso Bam Buddy 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 Marfi Signore Prima Carta Della Camera Di fusione Prima Distruzione E blocchiamola Prima che sia Troppo Cardi Quindi ragazzi Carta Distruzione Di Buddy Marfi Nei primi Sei giorni Di evento Vuol dire Veramente Tanto Abbiamo Un intero Mese Di tempo Per Sperare Di portarla A livello Pro Speriamo Davvero Ragazzi Spero Che almeno Al prossimo La prossima Camione Fusione Riusciremo A fare Sia Un'altra Buddy Marfi Signore Spero Veramente Il massimo E potremo Portare a casa Un'altra Distruzione Pro Per il resto Ragazzi Questo è il nostro Parco Carte Distruzione Abbiamo Tre Carte Della Camione Fusione Potremo Spero Ragazzi In lei Ruby Riot Sarebbe Veramente Il top Il top Dei top Ovviamente Altrimenti Un Rezaro Un Film Bello Sarebbe Veramente Comunque Eccellente Comunque Dai Quindi Ragazzi A questo punto Direi che Posso Concutere A questo Video Speriamo Che le Prossime Anche Ricompense Di Questo Mese Siano Eccellenti Siano Buonissime Per farci Progredire Nel Gioco Vestile Mina Ragazzi Ormai È Le Porte Questa Era Road Vestile Mina Signori E ogni Giorno Qui Succederanno Canale Vi invito A farlo E cliccare Sulla Campanella Per ricevere Ogni Notifica Relativa A questo Canale Signori Noi ci vediamo Un prossimo Video Ciao a tutti Ragazzi